Se non vi avessi detto che siamo qui a Taranto, presso Lido Taranto, voi avreste potuto immaginare di trovarci in una spiaggetta da Terzo Mondo, come purtroppo le immagini e lo Stato ci farebbe immaginare. Uno Stato di decozione assoluta, uno Stato di pericolosità, ora affronteremo con il collega Massimo Battista, collega consigliere comunale di una città per cambiare Taranto, questa situazione che ha davvero dell'incredibile. L'amministrazione Melucci parla di città turistica, ma guardando queste immagini sembra davvero una città del Terzo Mondo, qualcosa di raccapricciato. Forse l'amministrazione, il sindaco, il vice sindaco Manzulli non bazzicano questa, non conoscono questa zona o fingono di non conoscerla. Allora Massimo, come dicevamo, una pericolosità diffusa. Allora questa è una struttura, per farci capire a chi ci ascolta da casa, una struttura vecchia, l'Idotara, denominata l'Idotara, è stata data in concessione ad Orsonautica nel 2018, entro l'anno dovevano terminare i lavori, entro tre anni, pena decadenza, qualora i lavori non fossero stati eseguiti, doveva tornare nelle disponibilità del comune di Taranto. Le immagini parlano chiaro, una struttura fattiscente. Intanto andiamo per ordine, intanto la struttura in ferro, quello che resta di questo scheletro di ferro arrugginito, immagina Massimo se un bambino va a sbattere lì davanti. Allora, le immagini si vede, ci sono tantissimi bambini, questi ci sono ferro arrugginiti, una struttura pericolosissima, non vorrei che qualcuno stesse aspettando il morto. Questa ci troviamo nel centro cittadino di Taranto, dovrebbe essere il fiore all'occhiello. Discesa dopo il lungomare. Discesa lì o grande, questo dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città di Taranto, le immagini, come dicevo, parlano chiaro. Allora, noi abbiamo presentato queste interrogazioni, abbiamo interrogato l'amministrazione Menucci, vogliamo capire se questa struttura, che voglio ricordare per chi non sa dove ci troviamo, è l'ex struttura del dopolavoro Ilva, data in concessione ad Assonato. Allora, i lavori non sono stati completati, qui bisogna mettere in sicurezza tutta l'area, perché qui vengono tantissimi bagnanti che non possono permettersi di andare ad altri mari. Ma andiamo proprio per ordine, punto per punto, vi abbiamo mostrato la struttura in ferro, quello che resta di questi ruderi, di questo scheletro pericolosissimo, ma c'è di più. Vedete una passerella per disabili che è completamente rotta, sconnessa, pericolosissima. Massimo, ancora una volta, il diritto al mare negato per i diversamente abili. Oltre alla passerella, dall'immagine si può vedere un accatasto di mondizia, non è un bel vedere, lo è G, cioè qua parliamo di turismo, città che sta rinascendo. Io continuo a riparire, questa città purtroppo è amministrata di chi non cita per la città d'Italia, che si è chiuso nei palazzi del comune della provincia di Taranto e non gira. Molto probabilmente nulla a togliere, nulla a togliere a chi si può permettere qualche abbonamento nei lidi privati, è naturale, no, non siamo contro. Ognuno è libero, però chi non ha le possibilità deve goderne, fruirne. Siamo nel 2023, Luigi, queste immagini che voi state vedendo fanno veramente male. Noi non vogliamo il male di Taranto, come qualcuno potrebbe ipotizzare, perché far vedere queste immagini ha la funzione proprio di stimolo, di sprone a rimuovere una situazione vergognosa. Non siamo abituati a prendere la polvere, no, e a nasconderla sotto il tappeto per non farla vedere. Allora dobbiamo mettere il dito nella piaga. Eppure il vice sindaco Assessore Manzulli, caro Massimo, con un inglesismo, parlava di questa crescita di Taranto, di questo sentiment, di questa propensione dei turisti verso Taranto. Ma che co? Ma guarda, ma Manzulli, Manzulli va nelle spiagge forse degli altolocati, venisse qui, no, ma per rendersi conto. Oggi è veramente qualcosa di scandaloso. Tra l'altro, Luigi, queste sono state fatte denunce, perché abbiamo denunciato anche alla Capita Nerea di Porto, a tutti gli enti preposti. Questa è una situazione pericolosissima. Allora, io non uso immaginare se qualche bambino si dovesse fare male. Allora, se qualcuno sta aspettando che qualcuno si faccia male, che ce lo facesse sapere. Sapete cosa significa il ferro arrugginito quando si fa l'antitetanica? Beh, bisognerebbe... Quindi questo è Lido Taranto, alias Lido Terzo Mondo, e non vi scandalizzate. Questo significa volere il bene di Taranto, non nascondere i problemi, perché magari bisogna, no, Massimo, farsi compiacenti di qualcuno e far vedere che è tutto rose e fiori. Noi, Luigi, aspettiamo risposta. Abbiamo interrogato l'amministrazione, le carte parlano chiaro. Qualora non si dovesse essere portato a termine i lavori, questa struttura deve rientrare nelle competenze del demanio marittimo del comunità. Ricordiamo sempre persone che sono negli uffici del demanio marittimo di Taranto, che fanno gli ambientalisti solo sulla questione ILVA. Bene, vedremo cosa risponderà l'amministrazione comunale, anche se purtroppo sono convinto che, come si suol dire, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.